buongiorno a tutti ragazzi bene di questo nuovissimo video di fortnite ragazzi oggi sono un nuovissimo video di fortnite perché oggi vi andrò a mostrare l'arma più forte a mio parere del capitolo quattro lasciato bella che iscrivetevi al canale condividete attivate la campanella in un altro video ma soprattutto ragazzi la cosa più importante però non è quello ma ragazzi è quello di mettere il colice creatore antivall09 nel negozio oggetti tutto minuscolo tutto attaccato ragazzi anche minuscolo va bene e mi raccomando ragazzi scioppate tutte le cose del mondo con questo colice ragazzi mi raccomando perché così a meno posso mantenermi e non devo più andare a rubare gli indiani il posto ragazzi dove si troverà l'arma più potente del capitolo quattro e ragazzi qua nella città della cittadella andri non pensare al brescia che ha pareggiato col cittadella non pensarci ok 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 bello sto compa qua mi gustano tantissimo eccolo qua ragazzi o sul far giro 8 vuole fare il giro ah no ho stato il dizio odio no ma vaffanti io mi ci metto qua fino a quando non lo prendo ho capito che ci metterò 40 anni di vita oddio madonna raga l'ho full clappato in una maniera non ho neanche visto arrivare raga ho perso ma ho perso tipo raga troppi anni di vita eccolo raga è qua vai oddio oddio ah ah poi male poi male fai male arrampicati no sei un bimbo cattivo dov'è andato eccolo lol no provendo in pace scatale escali per per me è l'arma aperta ma poverino il bruno neppi nel suo castello amori dai sole nota non può salire muori se l'avevo ucciso raga eccolo qua l'arma raga l'ho trovato mio venti godo godo comunque ragazzi potrà capire lontano il mio chi ha il martello mitico ragazzi a parte chi raga lui al posto di avere quattro colpi a differenza di quello verde ne ha cinque l'ex scali per il mitico che noi siamo delle armi più forti c'è in generale però ragazzi per me è una buona coppia tipo di armi mitiche perché sono entrambe ottime armi fanno molto danno sono sgravate ma proprio di brutto ma raga per me il martello mitico ti fa balzare più in aria io direi in caso di conquistare la città perché ce lo siamo meditati ma proprio di brutto sconfiggere sto dannatissimo boss ragazzi vabbè gg no 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 scappo e non mi va a scappare oh dio questo c'è il martello no da ma fischia non è possibile non è vero non è vero non è vero porco non è vero 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 passare ecco succed euch o